Buonasera, edizione serale del nostro telegiornale che apriamo con una deprecabile notizia che arriva da Giarre, campagna elettorale per le amministrative segnata da un episodio inquietante, manifesti elettorali di un candidato a sindaco strappati e imbrattati e poi dati alle fiamme. È stata presentata una denuncia contro ignoti per capire se si è trattato di un atto vandalico o viceversa, di un gesto mirato. Sentiamo i dettagli. Manifesti elettorali danneggiati con spray, anneriti i volti dei candidati strappati e come si vede in queste immagini dati alle fiamme. Accade a Giarre ad essere presi di mira soprattutto quelli che ritraggono il candidato sindaco Leo Patanè. Qui siamo in Piazza Immacolata, questi spazi invece riservati su Piazza San Camillo. Cambia il sito ma non la scena. Atto vandalico, chiaro, segnale intimidatorio. Si dice turbato e scosso il concorrente alla poltrona di Primo Cittadino che tra il 10 e l'11 ottobre sarà in sfida con Angelo Danne, Via Torrisi, Leo Cantarella e Patrizia Lionti. Guardi, io onestamente non so cosa pensare. Questa notte l'ho trascorso in sonne quando mi hanno mandato le foto degli amici miei dove si vedevano i miei manifesti, in alcuni casi deturpati con lo spray nero, poi in altri casi strappati e peggio ancora bruciati proprio, si vedeva tutta la carta bruciata. Uno spettacolo veramente che nel 2021 ritengo non si debba assistere a questo. La campagna elettorale deve essere basata sui contenuti, sui programmi. Da parte nostra noi siamo tra la gente veramente, noi facciamo comizi, siamo gli unici che stiamo stabilendo tutta una serie di comizi proprio per rendere partecipi i cittadini e esternare quelli che sono i nostri programmi per affrontare le problematiche anche frazione per frazione. Vedere simili atti che sembrano anche di scopo intimidatorio, inutile nascondersi, perché bruciare la mia faccia chiaramente ha anche un significato, un significato che è assolutamente deprovevole. Io ora mi riservo di sporgere denuncia contro i gnoti. È chiaro che stiamo dando fastidio a qualcuno, non so chi ma stiamo dando fastidio a qualcuno e questo oggettivamente nel 2021 è qualcosa che deve assolutamente essere evitato. bisogna riportare la campagna elettorale sui contenuti. Devo dire che sono molto rammaricato, mi sono sentito con i miei più stretti collaboratori, mi hanno detto di andare avanti con maggior forza perché significa che stiamo dando fastidio a qualcuno. Quindi dobbiamo continuare nell'idea di cambiamento che abbiamo, vogliamo dare una svolta generazionale, un cambio radicale per un rilancio serio del territorio. Questo spaventa qualcuno. Spaventa qualcuno che probabilmente non vuole questo cambiamento ma vuole far ritornare giarre a 10 o 15 anni fa. Una giarre che onestamente non voglio consegnare ai nostri figli e voglio lottare affinché possa esserci un radicale cambiamento. E simili episodi vanno assolutamente condannati e mi auguro anche che possano esserci delle telecamere nella zona per individuare i colpevoli e consegnarli alla giustizia perché atti di questo tipo sono assolutamente dei provvedori e inseriscono un clima in una campagna elettorale, un clima che diventa di odio e di veleni, che non appartiene né a me né alla mia coalizione. Un gesto del genere in qualche modo può essere visto anche come un barometro di una tempesta, di malumori che si riscontrano nel Paese? Sicuramente un atto di questo tipo secondo me mostra più che altro la paura di qualche coalizione che magari teme un nostro successo. Andiamo adesso a Motta Sant'Anastasi, un terreno di oltre 3.000 m2 di bito a deposito incontrollato di rifiuti, è stato sequestrato dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania. Investigatori delle fiamme gialle in terreni di proprietà di un'azienda agricola hanno individuato un vasto terrapieno scosceso costituito da voluminosi inerti edilizi derivanti da attività di demolizione di edifici pneumatici usati e rifiuti speciali illecitamente smaltiti in violazione alle norme ambientali. Con l'ausilio di personale dell'ufficio tecnico del Comune e militare della Guardia di Finanza hanno scoperto anche 5 capannoni adibiti a deposito di materiale per l'edilizia con una superficie complessiva coperta di oltre miliardi di finanza 1.300 m2 che erano stati realizzati senza alcuna autorizzazione amministrativa. L'intervento si è concluso con il sequestro dell'area dei 5 capannoni e la denuncia a piede libero di due fratelli. L'operazione rientra nel settore delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell'ambiente e si inquadra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio disposto dal comando provinciale di Catania delle fiamme gialle. Avvicendamento nella base di Maristelli a Catania Riccardo Leoni e il nuovo comandante. Il passaggio delle consegne è venuto alla presenza del comandante delle forze aeree della Marina Casapieri. Vediamo. Cambio al vertice della stazione elicotteri della base Maristelli di Catania. Il capitano Riccardo Leoni e il nuovo comandante ha preso il posto del capitano di Vascello Riccardo Buralli. Stamani il passaggio di consegne nel corso di una cerimonia presieduta dal comandante delle forze aeree della Marina Militare Italiana contra Miraglio Marco Casapieri. La stazione elicotteri di Catania dal 1963 nell'area aeroportuale Tnea è la più longeva tra le basi italiane e assieme a quella di Grottaglie a Taranto e Luni alla Spezia rappresenta la principale articolazione operativa del comando delle forze aeree della Marina. Maristelli Catania è un pilastro del polaro navale di Agusta e di Catania e da qui spiccano il volo, le ali della Marina, le nostre aquile che imbarcano a bordo delle navi della squadra navale e presto sicuramente Catania è già un pilastro operativo molto importante ma in futuro sarà sicuramente impreziosito da nuovi assetti. La stazione elicotteri di Catania è stata coinvolta in tutte le principali operazioni in cui ha preso parte la Marina Militare. Gli elicotteri di stanza qui rappresentano uno strumento indispensabile per interventi in mare e per garantire sul territorio le attività in supporto alla popolazione. A Maristelli viene anche addestrata e formata la quasi totalità degli equipaggi e dei tecnici degli elicotteri della Marina, una peculiarità questa della stazione elicotteri di Catania. Il capitano di Vascello, Leoni, proviene dal sesto reparto aeromobili dello Stato Maggiore dove ricopriva l'incarico di vice capo reparto, sostituisce il comandante Buralli al comando di Maristelli dall'ottobre del 2017. È una città meravigliosa che ha accolto me personalmente e la mia famiglia a braccia aperte quando siamo arrivati ma soprattutto è una città che vive in piena sinergia con la Maristelli di Catania da 60 anni, quindi ha accolto la Marina Militare, la Marina Militare è stata accolta in questa città con entusiasmo fin dall'inizio e la collaborazione con le istituzioni cittadine, militari e civili è sempre andata in crescendo. Dal discorso del comandante Buralli si evince chiaramente qual è la missione di Maristelli di Catania, quindi i consigli che mi ha dato sono tutti quelli del suo discorso, stai attento al tuo personale, coltivalo perché sono con loro la vera forza della forza armata e della Marina, quindi io continuerò sulla stessa strada del comandante Buralli così come hanno fatto i suoi predecessori sicuramente. E parliamo adesso di Covid, vediamo i dati odierni in Sicilia con il contagio che sembra arretrare, sono stati infatti 278 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore con un'incidenza che scende all'1,8%, la Sicilia adesso è al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, gli attuali positivi sono 15.267 con una diminuzione di 1.330 casi, i guariti 1.601 mentre le vittime sono 7, 572 ricoverati, 24 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva ci sono 65 persone. Per quanto riguarda i dati relativi alle province siciliane, 58 casi si registrano a Palermo, 53 a Catania, 7 a Messina, 73 a Siracusa, 18 a Ragusa, 10 a Trapani, 14 a Caltanissetta, 33 ad Agrigento e 12 ad Enna. Nasce il lavoro unico per vaccini con percorsi separati al Palatuparello di Acireale. Tra 15 giorni l'area di test rapidi attualmente all'ingresso della tribuna centrale dello Stato Tuparello verrà trasferita nel lab vaccinale, sempre in modalità pit stop. L'hub vaccinale del Palasport di Acireale sarà utilizzato anche per i test rapidi attualmente disponibili nello spazio antistante alla tribuna centrale dell'antico Palatuparello. Nasce così il polo vaccini tamponi più grande del bacino a nord del capologo Etneo. La decisione è stata assunta ieri nel corso di un incontro al Palazzo di Città tra il sindaco Stefano Lì e il commissario straordinario per l'emergenza Covid dell'Asp3 Pino Liberti. La rimodulazione delle attività sanitarie di contrasto e controllo alla diffusione del virus si resa necessaria a seguito dell'affidamento dei lavori all'impresa giudicataria dell'appalto di rifacimento della pista di atletica dello stadio Acire Galatea. Entro 15 giorni dunque verrà attrezzata una postazione sempre con modalità pit stop con accesso da questa porta laterale del grande complesso sportivo coperto con attraversamento e l'ingresso e uscita dei mezzi per i controlli tamponari agli utenti, servizio che si svolgerà ben distanziato da quanti si sottopongono al percorso vaccinale nel rispetto dei rigidi protocolli adottati dai vertici sanitari. Il palasporto è stato concesso all'Asp3 fino al prossimo 31 dicembre. Dopo questa data l'amministrazione ha manifestato l'intenzione di rientrare in possesso della struttura da affidare tramite bando ad imprese specializzate nell'organizzazione di concerti e spettacoli ricavandone in cambio un beneficio economico. Va da sé che la decisione ultima è legata alla diffusione della pandemia che potrebbe determinare un'ulteriore proroga ad hub vaccinale del palasport. La proposta di attrezzare un hub vaccinale all'interno dell'ex palazzo dell'Inail di via Paolo Vasta infatti non soddisfa i criteri minimi di sicurezza alla mobilità cittadina. Intanto sul fronte della diffusione del virus la Sicilia resta ancora tra le regioni a più alto indice di contagi ma si abbassa la pressione sugli ospedali, particolare che potrebbe determinare il ritorno alla zona bianca già dalla prossima settimana. L'amministrazione comunale per quanto di sua competenza ha già disposto tutti gli atti necessari all'accorpamento dell'area vaccini e tamponi presso il palasport. Il giorno 15 noi dobbiamo consegnare le aree per i lavori di riqualificazione del campo di calcio, per la realizzazione della pista atletica nel campo dello stadio Ace e Galatea. Il servizio dei lab tamponale in modalità pit stop, che è un servizio molto importante perché garantisce anche sicurezza, viene trasferito con il supporto del dottore Liberti che ci dà manforte su questo tema, viene spostato nella struttura del tupparello. Quindi viene fatta una corsia di ingresso e di uscita totalmente separato dall'attuale hub vaccinale, in cui verranno realizzati i tamponi in modalità pit stop, in modo da continuare a garantire questo servizio che è importantissimo. Ed è una soluzione provvisoria oppure sarà definitiva? Diciamo che in tema Covid tutto è provvisorio e tutto è definitivo perché fino al 31 dicembre noi utilizzeremo il palattuparello è stato dato in gestione all'Asp per gestire i vaccini. Però è chiaro che bisogna verificare qual è la situazione, se ci saranno ulteriori termini per la vaccinazione. Adesso andiamo a Catania, sono iniziati i lavori in piazza Mancini Battaglia ad Ognina per la realizzazione dell'ultimo tratto della condotta fognaria che collegherà i reflui provenienti dalla rivera dei ciclopi con Pantano d'Arci. I lavori proseguiranno sino a via Acireale e avrebbero, secondo l'assessore Arcidiagono, una durata intorno ai sei mesi. I lavori per il completamento della condotta fognaria a Catania entrano nella loro fase decisiva e finale. Mezzi all'opera stamattina in piazza Mancini Battaglia ad Ognina con un restringimento della sede stradale necessari per l'opera di convogliamento dei reflui provenienti da Acicastello e Acicatena alla vecchio collettore allacciante del comune di Catania. I lavori che dureranno sei mesi consentiranno di raccogliere le acque nere, altrimenti scaricate in maniera disordinata nei canali naturali. Il tutto sarà poi recapitato all'impianto di depurazione di Pantano d'Arci. Vi sarà fatta la vasca di sollevamento che poi costituisce la ragione principale per evitare non soltanto allegamenti ma per la normale fruizione del flusso verso il canale di Gronde e quindi verso l'eliminazione delle acque reflui. Devo dire che finalmente dopo difficoltà non indifferenti, d'accordo con l'azienda, con Acicalatea che ha dato la sua disponibilità ovviamente nelle condizioni in cui versava, ci ha dato finalmente la possibilità di poter iniziare perché era un problema per la città non soltanto per quanto riguarda le acque ma per il traffico. Questo lo dico perché il blocco del traffico proprio nella parte finale della circonvalazione in un momento in cui le scuole erano iniziate, in cui il flusso veicolare per l'attività quotidiana di lavoro in particolare era iniziato e ci aveva davvero messo in difficoltà. Quindi un grazie da Acicalatea per la sensibilità pur sapendo e capendo che qualche problema economico lo hanno avuto, ce l'hanno, ma ovviamente il Comune è vicino alla ditta, ai lavoratori soprattutto perché possano essere loro nelle condizioni di poter soddisfare in maniera normale la loro esigenza ma è che si faccia presto e si faccia bene perché Catania non può aspettare la burocrazia che purtroppo blocca qualunque tipo di attività e in questo caso è la blocca da mesi, sono molti mesi che abbiamo avuto queste difficoltà, ma è che mi auguro che adesso speditiamo vanno verso la soluzione e si realizzi un sistema che la città aspetta da diversi anni e che consenta insieme ad altre cose che l'amministrazione, il nostro sindaco Salvo Pogliese ha messo in atto che è quello del riflusso delle acque refele soprattutto più umane che quando ci sono le famose bombe d'acqua ci mettono assolutamente in difficoltà. Qual è la durata prevista dei lavori e dove si fermeranno poi? I lavori si fermeranno quando avremo il collegamento con il canale di Grondola attraverseranno Piazza Mancini Battaglia, arriveranno in via Cireale per poi collegarsi ripeto a quella che è la rete che è stata già effettuata da anni quindi io in un periodo penso che non sia superiore ai sei mesi riteniamo di poter concludere questi lavori e dare finalmente respiro alla città che soffre ripeto e non soltanto per le acque visto che siamo riusciti con la pulizia dei tombini ad attutire le prime acque piovane, le prime bombe d'acqua ma è giusto che invece la città sia in assoluta sicurezza. A Cireale al via il progetto di gestione digitalizzata delle pratiche edilizie comprese quelle del passato sarà possibile consultarle dal PC di casa si tratta di oltre 2500 fascicoli e sarà tutto più agile nel rapporto utenti-uffici sentiamo Parte il progetto esecutivo per l'attivazione e l'aggiornamento della piattaforma telematica di gestione delle pratiche edilizie di Cireale una rivoluzione in linea con le direttive comunitarie in materia di inclusione digitale di diffusione e utilizzo del web e dei servizi pubblici digitali uno straordinario strumento di dialogo, collaborazione e partecipazione civiche in rete finanziato dalla UE l'annuncio stamani da parte dell'assessore all'urbanistica Mario Di Prima al quale il sindaco ha infilato la delega nel riassetto della giunta a seguito della dimissione dell'assessore Grasso la vissura dei fascicoli edilizie su cartaceo comporta inevitabili lungaggini autorizzative mentre il processo di digitalizzazione li rende immediatamente fruibili all'utenza contribuendo a ridurre i tempi di istruttori di manufatti già autorizzati ma anche per le richieste di ristrutturazione degli immobili il progetto impegnerà l'ufficio tecnico ad affiancare l'impresa affidataria nella scannalizzazione e trasferimento su piattaforma elettronica di oltre 2.500 pratiche e cartaceo una mole documentale di oltre 22.000 planimetrie contestualmente verranno caricate le immagini dei relativi supporti progettuali la cui visione verrà aperta a tutti gli utenti e professionisti che si registreranno al sito del comune attraverso il quale potranno presentare le pratiche edilizie e di accesso agli atti relativi ad immobili e nonché di tipo statistico l'amministrazione ha disposto un fondo di 44.000 euro e aperto tramite il MISE al bando di affidamento ad un'impresa specializzata incaricata di digitalizzare e inserire nella piattaforma web dedicata a tutti gli elaborati Il settore dell'urbanistica è cruciale per lo sviluppo e per il miglior decoro e funzionamento di una città, di una comunità utilizzare gli strumenti informatici è ineludibile e diventa soprattutto importante affinché le procedure possano essere efficienti e possano essere rapide al servizio dei cittadini Con il progetto che abbiamo approvato in giunta proprio ieri informatizziamo, digitalizziamo l'intero settore urbanistica anche per le pratiche più antiche realizziamo una piattaforma attraverso la quale anche tutti i diritti di accesso agli atti anche tutte le pratiche più antiche quindi per eventuali ristrutturazioni e quant'altro può diventare più agevole, può diventare un servizio per il cittadino molto più efficiente e molto più rapido Oggi festa della polizia anche a Catania con solenne celebrazione eurbanistica all'interno della Basilica Cattedrale ne abbiamo approfittato anche per rivolgere alcune domande al prefetto e all'acquestore di Catania abbiamo parlato anche di microcriminalità, un problema che affligge il capoluogo Etterneo La Polizia di Stato festeggia oggi il suo santo patrono San Michiel Arcangelo raffigurato con una spada impugnata che rappresenta la potenza di cambiamento e di liberazione ma anche la capacità di distinguere tra il bene e il male stamattina messa solenne nella Basilica Cattedrale di Catania ufficiata dall'Arcivescovo Cristina alla quale hanno preso parte il prefetto di Catania i comandanti provinciali dei carabinieri della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco oltre ad autorità militari e civili della provincia Etnea organizzato oggi anche il Family Day, una giornata di incontro e vicinanza tra le istituzioni e le famiglie dei poliziotti con la possibilità di visitare le strutture e le attrezzature specialistiche utilizzate dalla Polizia di Stato le forze dell'ordine sono peraltro impegnate in questo momento anche nel contrasto alla microcriminalità un fenomeno sempre più invasivo nel capoluogo Etterneo Intanto oggi festeggiamo San Michele e festeggiamo la Polizia di Stato credo che la risposta che sono state date a questi fenomeni sono state due risposte importanti sia un'azione delle forze dell'ordine che hanno proceduto all'arresto di esponenti di clan che utilizzavano i minori e anche la recente consegna dei beni confiscati ai clan diciamo dati alla fruizione sociale quindi fenomeni ci sono bisogna anche mettere in campo le iniziative per contrastarle bisogna che lo Stato faccia squadra con tutte le forze dell'ordine ma anche con la società perché questa battaglia del contrasto a ogni forma di legalità è una battaglia che si combatte tutti insieme e si possono ottenere risultati solo se insieme e in piena sindesi facendo squadra si mettono insieme le iniziative più importanti il nostro sforzo nei confronti della fenomenologia criminale che sia cosiddetta microcriminalità o macrocriminalità per noi non fa molta differenza sono fenomeni da attenzionare ma vorrei che i cittadini sapessero ma penso che già lo sappiano che sono attenzionati sempre H24 noi seguiamo con attenzione anche l'evolversi le dinamiche di tutti gli eventi perché la lettura costante fornisce anche degli spunti di riflessione per modulare meglio gli assetti operativi è chiaro che siamo reduci da un periodo complesso dal quale peraltro non siamo neanche definitivamente usciti ma di cui si comincia a intravedere per fortuna ben più di una luce in fondo al tunnel come dicevo prima e questo ha reso ancora più complicata la nostra opera perché ci ha costretto a doverci occupare e rimodulare anche i nostri interventi in chiave di situazioni che oggettivamente erano inimmaginabili senza dover rascurare che anche le altre fenomenologie non sono mica scomparse questo per dire cosa che il nostro lavoro è estremamente complesso ma è un po' una sfida quotidiana riteniamo di avere le competenze sia come Polizia di Stato che come squadra del Stato intesa la Procura della Repubblica le altre forze di Polizia la Prefettura che ha una sabiente opera di regia collettiva di tutto questo per poter avere gli strumenti per poter neutralizzare con tutte le forze che abbiamo le varie situazioni che il quotidiano ci presenta e voi sapete quanti ce ne stanno quotidianamente e attraverso una serie di azioni che puntano necessariamente sulla prevenzione ma anche attraverso una strutturata attività repressiva in tutte le forme in cui la si può mettere in pratica crediamo di avere fatto e di fare quotidianamente il nostro lavoro Il bilancio dell'estate 2021 è certamente positivo per riposto e nel paese Ionico peraltro ci si prepara anche ad ospitare i ciclisti che partecipano al Giro di Sicilia con la tappa che poi chiuderà questa edizione 2021 prevista per il primo di ottobre archiviata l'estate ma non quella meteorologica e tempo di bilancio al riposto dove la bella stagione ha visto organizzati eventi e manifestazioni che hanno riscontrato grande apprezzamento e presenza di pubblico nel rispetto delle normative anti-covid a ricordare alcuni dei successi delle scorse settimane il sindaco Enzo Caragliano con lui l'assessore allo sport, turismo e spettacolo Carmelo D'Urso e si pensa già agli appuntamenti autunnali un nuovo programma sino a dicembre quando poi si darà il via alle manifestazioni natalizie intanto fervono i preparativi per il Giro di Sicilia anche riposto attraversata dal fiume di ciclisti giorno 1 ottobre è messa un'ordinanza di chiusura strade interessate dalla Kermess sportiva detto bene non ci fermiamo qua venerdì un grandissimo evento il Giro di Sicilia passerà per la nostra riposta sono eventi che molta gente trascura sono di quegli eventi straordinari che dovrebbero essere valorizzati, incentivati e propagandati perché è lo sviluppo di un territorio che la gente quando si sposterà per vedere questa bellissima gara sicuramente occuperà i nostri B&B i nostri alberghi i nostri ristoratori quindi avremo un buon ritorno sul territorio è chiaro che quel giorno ci saranno un po' di difficoltà ma sono di quelle difficoltà che accetto volentieri perché ripeto è l'immagine di un territorio la crescita e lo sviluppo del territorio l'evento Giro di Sicilia in cui partecipano tutti i grossi campioni mondiali non è un evento di tutti i giorni quindi sì avremo una ordinanza che limiterà il traffico in particolare sul lungomare fino alla piazza Commercio da via Messina fino all'angolo Piazza Commercio avremo il corsetario tutto impegnato e quindi il centro è stato valorizzato al massimo ma non solo questo qua io penso che anche le manifestazioni dell'ottobre ci sono ancora presentazioni e altre cose e credo che continueremo fino a dicembre perché organizzeremo sicuramente dei concerti qualcosa sotto il periodo di natalizia fermo restando che c'è anche il più grande impegno mai trascurato è quello dell'evento del nostro genio grande e universalmente riconosciuto Francesco Battiato su questo ci stiamo lavorando la regione è vicina a noi e quindi l'evento deve essere fatto in un modo eccezionale Siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a portare a termine nonostante la crisi, le difficoltà abbiamo messo su un cartellone estivo che ha guardato più punti infatti abbiamo iniziato da luglio con le eccellenze enogastronomiche un evento che sarà riportato anche l'anno prossimo perché c'è stato un gran successo ed ha interessato tutto il nostro lungomare che dal riposto portatore archirafi e poi ci sono stati eventi sia per i bambini quali i fratelli Napoli con i pupi siciliani poi ci sono state anche le fondane danzanti abbiamo avuto la nostra compagnia ionica che è premiata da poco che due spettacoli ci ha donato alla nostra comunità e stiamo buttando giù una bozza che riguarda degli eventi autunnali e poi un Natale che ci stiamo sforzando molto al fine di renderlo quasi esclusivo giornata mondiale del cuore e della prevenzione cardiovascolare è stata celebrata in quattro piazze italiane tra queste Catania con Piazza Università protagonista Catania è una delle quattro città italiane dove oggi è stata ricordata e celebrata la giornata mondiale del cuore una campagna globale rivolta ad individui, famiglie, comunità e governi di tutto il mondo stimolata a prendersi cura della propria salute del cuore e di quella degli altri in Piazza Università una serie di incontri incentrati sulle malattie cardiovascolari con consigli utili da parte di esperti circa la giusta attività fisica l'alimentazione sana i rischi del fumo e l'abuso di sostanze alcoliche tutti elementi che possono danneggiare il cuore effettuati esami elettrocardiografici controlli della glicemia e valutazione dei parametri vitali partner della giornata mondiale del cuore anche le aziende sanitarie catanesi direttore la prevenzione è sempre importante più che mai sotto l'aspetto cardiologico Sì e lo dice chi come me dirige un ospedale nel senso che siamo qua per rappresentare le due gambe della sanità e dell'offerta sanitaria una è quella ospedaliera le cure sempre più efficaci e efficienti nella realizzazione anche di impianti attrezzature più sofisticate che possono curare insieme ai farmaci nel miglior modo possibile le patologie già sviluppate ma la prevenzione e siamo qua oggi per questo gioca un ruolo fondamentale oggi è la giornata mondiale del cuore e vogliamo essere presenti perché per dimostrare partendo proprio dall'esperienza terribile di questi genitori che hanno perso dei figli studenti giovani sani apparentemente sani e morti di questa morte imprevvisa per motivazioni cardiache questo dimostra che la prevenzione va fatta fin da giovani va fatta nelle scuole io parto di sanità e scuola va fatta la possibilità appunto oggi di avere questi stand nella quale i nostri cardiologi possono gratuitamente scrinare possono gratuitamente fare ettrocardiogramma sta a significare l'importanza di poter prevenire prevedere in tempo patologie che possono poi rilevarsi assolutamente nefaste quindi la prevenzione dimostri come l'innalzamento della qualità di offerta sanitaria passa da questo basti ricordare quello che sta accadendo col covid noi stiamo sconfiggendo questa maledetta malattia e adesso la curva dei ricoveri sta diminuendo e siamo tutto aperto per la vaccinazione perché ovviamente incrementando la vaccinazione si stanno riducendo finalmente i ricoveri e quella la vaccinazione fa parte a tutto tondo di quello che si chiama prevenzione la prevenzione nel settore cardiologico è pari a quella degli screening oncologici fondamentale per la vita e per una buona qualità di vita si avvicina Halloween ed emerge una nuova zucca già presente sui banconi dei mercati per saperne di più vediamo insieme il servizio piccola dalle forme irregolari di un peso compreso tra 1 e 2 chili e mezzo dolce dolcissima tanto da essere definita di miele proprio per le sue peculiarità zuccherine e la zucca polpa di colore aranciato eccola apparire sui banconi di negozi di ortofrutta e mercati a sei mesi dalla semina eccellenza del territorio quelle che vedete provengono da San Leonardello frazione giarrese e non hanno nulla a che spartire con quelle che si acquistano tra la fine di ottobre e i primi di novembre anche in occasione di Halloween molto più grandi queste possono arrivare a pesare sino a 30 chili e si prestano a decorazioni a tema horror per la festa di importazione americana oltre che a finire sulle tavole dei siciliani no no non sono quelle di Halloween sono delle zucche di qua locali di San Leonardello più precisamente come varietà sono forse le migliori perché sono piccoline sono come dolcezze sono superiori a quelle che si fanno diciamo nel periodo di ottobre sono alla portata di tutte le tasche nel senso che si possono possono essere diciamo consumate per una famiglia una persona perché sono di taglio piccolissima ecco non vanno oltre 2 chili 2 chili e mezzo 1 kilo massimo 2 chili e mezzo grazie come si può cucinare questo alla parola il chef ma comunque in cucina penso che si possono fare risotti è la cosa che mi viene più in mente ma poi vellutate creme si possono fare in tanti modi le zucche ormai è diventata diciamo una moda ecco lei parlava di moda vengono piantate tra marzo e aprile quindi hanno bisogno di tempo anche per crescere pur mantenendosi così piccole sì 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 hanno bisogno di diciamo il clima è quello che della nostra zona li aiuta diciamo a crescere piano piano perché non hanno bisogno di tanta acqua e quindi vengono piantate fine aprile e poi vengono raccolte fine agosto prima di settembre negli ultimi 20-30 anni c'è stata un po' un'inversione di tendenza questo era un cibo una volta destinato agli animali no? agli animali di campagna ai maiali per esempio poi la zucca ha invaso le tavole e poi c'è stata anche l'influenza americana sì quella purtroppo Halloween è ormai sulla bocca di tutti infatti fino a ottobre si consuma più che altro per decorazione che per altro ecco finisce qui questa edizione del telegiornale che potrete seguire tra poco sul sito retv.it e sui nostri canali social prossimo appuntamento con l'informazione in diretta domani a partire dalle 14 ringrazio in regia Carmela Fagone e vi invito a seguire insieme le previsioni meteo buona serata appuntamento con il meteo le previsioni del tempo in Sicilia di giovedì 30 settembre cielo da sereno a nuvoloso con possibili precipitazioni sparse venti deboli mari calmi le temperature oscilleranno nell'isola da 14 gradi a Enna 31 a Siracusa a Catania e nell'Interland 21 gradi la minima 30 la massima a